Ancora con voi? Ancora con voi. Io parto da un presupposto. Il modo di raccontare il Milan è tellurico. I fenomeni tellurici purtroppo sono fenomeni seri, ci portano a parlare di sismi, di terremoti, che sono cose serie, che comportano la perita di vite umane, come accaduto anche di recente a Taiwan. Io parlo di tellurico dal punto di vista metaforico, dal punto di vista letterario, quindi indolore. Il Milan viene raccontato costantemente in fibrillazione. Tu appena vinci una partita, Teo Hernandez fa una grande partita a Verona, no. Non si può parlare del suo gol o della sua grande partita, perché c'è l'ammunizione ingiusta perché ha esultato, non si doveva permettere di esultare così, e poi c'è il tormentone del rinnovo. Mignan fa grandi parate con la Fiorentina, tormentone del rinnovo. Nel Milan non c'è la possibilità di godersi nulla, c'è sempre il controcanto. Succede una cosa bella nel Milan, bisogna andare subito a trovare il problema derivante, il problema conseguenziale. Quindi il Milan è tutto un caos. Adesso è arrivato anche il tormentone Zirzè. Zirzè è un bel tormentone, perché Zirzè è un giocatore meraviglioso, per il mio giudizio tecnico, su un giocatore del Bologna. Su un giocatore del Bologna, che è del Bologna. Però c'è già il tema, ma il Milan non ha mai speso così tanto per un numero 9, lo farà, non lo farà. Tutti i giorni si parla di Zirzè, tutti i giorni. Ci sono altre squadre invece che sono cristallizzate, non si dice nulla. Per noi c'è già il toto cardinale, cioè se Gerry Cardinale è il nostro proprietario, ci sarà o non ci sarà con la Roma. In altri ambiti, in altre squadre, non c'è lo stesso toto proprietario. Non ci si chiede mai se c'è o non c'è. Quindi, insomma, noi siamo tellurici. Noi veniamo raccontati tellurici, costantemente in fibrillazione, costantemente in movimento. Altri vengono raccontati, buon per loro, bontà loro, per fortuna loro, sempre stabili. Sempre tutto diritto, tutto perfetto, tutto... Poi qualcuno mi dirà, ma non è questione di raccontare, è questione della verità, è la verità, la famosa verità che nel calcio in tasca non c'era nessuno e non si raggiunge mai. Però in qualche caso c'è la verità e in qualche altro caso non c'è mai. Quindi prendiamone atto, prendiamone atto. Io vi dico semplicemente che oggi il mirror, il mirror, io non voglio portare male o rovinare i sogni dei tifosi, come qualcuno mi accusa. Io dico solo che oggi sul mirror, domani sapete che, in questo weekend sapete che c'è il Northwest Derby, è il classico inglese, il derby d'Inghilterra, fra Manchester United e Liverpool. È il Real Barca della Premier League. E il mirror scrive che sia il Manchester United che il Liverpool sono pronti a ingaggiare anche un derby di mercato per Zirze. Quindi figuratevi se fosse minimamente vicino al vero quello che scrive il mirror, con quali potenze economiche dovrebbe scontrarci una squadra della Serie A italiana per avere Zirze per toglierlo a Manchester United e Liverpool che dal punto di vista economico, dal punto di vista dei ricavi, dal punto di vista delle risorse finanziarie sono due potentati strapotenti rispetto a qualsiasi squadra della Serie A italiana. Però da noi Zirze è già diventato un tormentone. È diventato un tormentone anche l'organigramma dirigenziale. Io vi dico semplicemente questo. Io vi dico che nel calcio davvero non voglio prendere a prestito le parole di Stefano Pioli di oggi in conferenza, quando ha detto che per noi conta solo il presente perché è il presente che prepara e determina il futuro. Ma è così. Il futuro oggi tu non lo puoi pronosticare tu cur, d'amblè. Io dico solo che oggi Giorgio Furlani è il CEO del Milan, l'amministratore delegato del Milan. Damien Comolli, o Comolli, io lo italianizzo Comolli, è il presidente del Tolosa. Pienamente in carica, pienamente facente funzione. Quindi pronosticare oggi, delineare e disegnare oggi, 5 aprile, quando ancora non abbiamo la benché minima idea di come finirà questa stagione. Che cosa succederà per Comolli, per Furlani, per Zirzee, per il mercato, per i risultati, per i ricavi, eccetera, è assolutamente impossibile. Perché il caso Rangnick di qualche anno fa insegna, tutti sicuri, era solo l'aziendalista Suma che diceva che invece Pioli aveva le sue chance da giocarsi, mentre la verità era che arrivava Rangnick. Quindi io delle verità di Fito, per statuto, per luogo comune e mi tengo, mi tengo il caro vecchio calcio, impronosticabile, imperscrutabile, che cambia scenari da una settimana all'altra, da una partita all'altra. Chi l'avrebbe detto 7-8 partite fa che il Milan oggi sarebbe a più 6 sulla Juventus, visto che era a meno 7? Nessuno. E invece è così. Quindi il calcio è impronosticabile per sua natura. C'è anche naturalmente a far fibrillare l'ambiente, a renderlo tellurico il caso de Ketlare. Riscatto sì, riscatto no. Per tutta la stagione, pensate, per tutta la stagione ci siamo sentiti dire siete proprio degli allocchi, siete proprio dei polli, come dice quello bravo, lo scienziato. Siete proprio dei polli. Avevate un gioiello e siete andati a darlo all'Atalanta, avete rinforzato una concorrente, eccetera, eccetera, eccetera. E guardate che de Ketlare, guardate che bravo, voi non avete saputo gestirlo, voi non avete saputo valorizzarlo, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso, adesso invece improvvisamente, ma poi non si sa se l'Atalanta poi lo riscatta, ma non era il grande gioiello che ormai il Milan aveva perso. Però vedo che ogni cosa, prima si diceva siete stati degli allocchi a perderlo, adesso ci viene detto con lo stesso sorrisino furbo, eh, vi ritorna, vi ritorna la patata bollente. Ragazzi, fate voi, decidete voi qual è la verità, se è quella che mi avete raccontato fino a qualche mese fa, non dico a voi tifosi o a voi amici di YouTube, dico in generale. Decidete voi se eravamo degli allocchi primo, se torna un problema adesso, perché se l'Atalanta dovesse lasciare libero Charles de Ketlari, al Milan tornerebbe una risorsa molto valorizzata, con molto più valore rispetto a 8-9 mesi fa. Se poi il tema è lo sconto rispetto all'accordo iniziale, è un tema che, ne parlavamo ieri, nel calcio italiano esiste sempre. Quando tu ti avvicini a un giocatore di una squadra italiana che non sia fra le primissime, costa caro come il fuoco, ma se lo devi cedere tu a loro, bisogna trattare, bisogna trattare, bisogna trattare. Quindi vedremo se sarà una questione di sconto o sarà una questione che forse su De Ketlari avevamo capito male. Noi sto parlando di dibattito mediatico e non sto parlando di, mancherebbe altro di rapporti fra società e di intese fra dirigenti. L'intervista a Gerry Cardinale, il nostro proprietario, è stata molto ampia, molto fresca, ad ampio raggio, non si è sottratto a nessun tema, ha parlato in maniera molto adulta del rapporto con i tifosi, tifosi che non sono da prendere in giro, tifosi che sono giustamente esigenti, che pretendono risultati, rendimento, performance e quindi è con quelli che bisogna rispondere ed è a quelli cui speriamo di poter rispondere ai nostri tifosi. Ciao a tutti, ci vediamo e ci sentiamo domani prima e dopo la partita. Ciao a tutti.